Venerdì 24 giugno, buongiorno ai tre spettatori di LACI e benvenuti al primo appuntamento con la nostra informazione. Subito in primo piano la vittoria della Brexit, la Gran Bretagna fuori dall'Unione Europea. La notizia battuta da Lanza alle 5.46, il Liv, cioè il sì all'uscita dell'Unione Europea, ha vinto dunque il referendum in Gran Bretagna. E ancora questo l'argomento in primo piano, poi la politica, la vigilia della direzione di oggi del PD, tutte le anime del partito chiedono un cambio di passo, ma fonti vicine al Premier spiegano che Renzi rilancerà sui temi del governo e non cambia idea sulla legge elettorale. E ancora Virginia Raggi si è insediata come neo eletta sindaco di Roma e poi la svolta sulla morte di Antonio Giglio, il bimbo di tre anni deceduto nel 2013 a Caivano. Precipitando da una finestra la procura di Napoli sta procedendo per omicidio volontario nei confronti della madre, ex compagna di Raimondo Caputo, accusato di avere violentato e ucciso la piccola fortunata Loffredo. E ancora la crona che è finito in carcere il sindaco di Abano Terme, Luca Claudio, esponente del centro-destra, a fresco di rielezione. Secondo la procura di Padova sarebbe stato ideatore e gestore di un sistema collaudato di mazzette sugli appalti pubblici. E poi temi che riguardano la nostra regione, terremoto nell'Indrine del Vibonese, si pente il boss Andrea Mantella, l'antagonista del Mancuso di Limbadi, recentemente tornato in libertà. L'omicidio Ventura ordinato da Cannizzaro. Secondo la DDA di Catanzaro, il fotografo di La Mezzia Terme, scomparso vent'anni fa, venne ucciso su ordine del boss della cosca Cannizzaro da Ponte. Ieri mattina dunque c'è stato l'arresto. Questi dunque i principali fatti per quanto riguarda la politica sul PD irto prudente, non basta sostituire gli uomini per affermare il cambiamento del partito. E quanto afferma il Presidente del Consiglio regionale in un'intervista ai nostri microfoni alla vigilia della direzione nazionale del Partito Democratico. Ma andiamo subito a vedere la prima pagina questa mattina sui quotidiani nazionali. Partiamo come sempre dal Corriere della Sera. In primo piano la Brexit, i sondaggi avanti il sì all'Europa. Lo storico referendum in Gran Bretagna per le prime rilevazioni, il Remain al 52%, il Leave al 48%. Il leader populista Farage sembra che ce la facciamo, Cameron, grazie a chi ha votato, così siamo forti nell'Unione Europea. Questo dunque il titolo a tutta pagina. Poi la politica no a giochi Dorotei. Renzi sfida nel PD. La sinistra basta fiducia a scatola chiusa. Questi dunque i principali argomenti riportati in primo piano sul Corriere della Sera. Adesso vediamo la prima pagina del quotidiano La Repubblica. Eccola la Brexit in primo piano. Dunque c'è il referendum britannico. Testa a testa nella notte in gioco il futuro dell'Unione. I sondaggi danno in vantaggio il sì all'Unione Europea, ma i primi risultati li smentiscono. E poi, per quanto riguarda la politica, basta fiducia. L'ultimatum dei ribelli PD sfida a Renzi. Oggi la direzione Verdini vota contro. Governo sotto. E ancora c'è un altro caso riportato sulla Repubblica. Lo leggiamo insieme. Il titolo, il premier sentito come testimone per l'indagine sulle popolari. Così riporta stamattina la Repubblica. Subito andiamo a vedere il titolo. Questa mattina sul sole 24 ore. Eccola l'apertura. Brexit. I mercati votano no. Ma è testa a testa. I primi exit poll, 52% per restare in Europa. Live avanza nei dati reali. Dunque volano le borse. Piazza affari a più 3,71% che puntano sul remain. Sterlina al massimo poi cade sui primi scrutini. Spread BTP band in calo a 123. E poi, sempre dalla prima pagina del sole 24 ore, c'è uno speciale pensioni. Arriva l'ape. Ecco tutti i calcoli dei costi per chi sceglierà l'anticipo pensionistico. E ancora sul riassetto previdenziale. Incontro governo sindacati. La pensione flessibile. estesa a statali e autonomi. Un'altra notizia la leggiamo insieme. Visco il Belin è stata una sconfitta per l'Italia. Chi ha venduto bond in modo scorretto la deve pagare il virgolettato. Questi dunque i principali argomenti in primo piano. E adesso subito approfondiamo gli argomenti che riguardano la nostra regione. Lo facciamo dalla prima pagina della Gazzetta del Sud. Siamo all'edizione di Catanzaro Crotone. La Mezzia Vibo. In primo piano c'è la Brexit con gli europeisti in vantaggio ma di poco. Riflettori sui mercati. Piazza Affari spera di ripetere l'expload ieri a più 3,71%. Referendum sulla Brexit. Spoglio delle schede nella notte. avanti i filo Unione Europea con circa il 52%. E poi dunque approfondiamo i temi legati alla nostra regione. Lo dicevo c'è la cronaca in primo piano. Lupara Bianca ha arrestato Cannizzaro. Il presunto boss ordinò l'uccisione del fotografo Gennaro Ventura. I resti di Gennaro Ventura recuperati in un casolare abbandonato. Omicidio che si è consumato circa 20 anni fa. Ma andiamo subito a vedere i dettagli dell'operazione scatata ieri. In questo servizio l'ex carabiniere di La Messia Terme Gennaro Ventura venne ucciso per vendetta. A 20 anni dalla scomparsa la Didia di Catanzaro ha fatto luce sull'omicidio con l'arresto da parte della squadra mobile del presunto responsabile Domenico Antonio Cannizzaro di 50 anni, esponente di spicco della cosca Cannizzaro da ponte dell'Andrangheta. Dalle indagini è emerso che l'omicidio di Ventura venne deciso e programmato da Cannizzaro per vendetta in quanto la vittima quando era in servizio nell'arma aveva contribuito all'arresto e alla conseguente condanna di un parente di Cannizzaro in relazione ad una rapina avvenuta a Tivoli e durante la quale era stato sottratto un ingente quantitativo di sostanze stupefacenti. La vittima, il 16 dicembre del 1996, sarebbe stata attirata in una trappola con la scusa di un appuntamento di lavoro. A sparare fu Gennaro Pulice, oggi collaboratore di giustizia, che ha riferito di aver occultato il cadavere in una casca sotterranea all'interno di un casolare agricolo abbandonato. I resti di Ventura vennero ritrovati diversi anni dopo, nel 2008, all'interno di un rudere nelle campagne vicino la Mezzia. Oggi finalmente facciamo luce su un ulteriore tassello della complicata realtà criminale di la Mezzia Terme. È importante perché ci dà la misura del rilievo e della collaborazione che il dottor Romano, della DDA di Catanzaro, è riuscito ad ottenere da una serie di soggetti in trani e le cosche lamettine e soggetti di primo piano. E ci consente di fare luce su quelle dinamiche criminali che hanno operato alla Mezzia per tanti anni. Da Catanzaro per la Cineus 24. Dunque, stessa notizia riportata anche sul Quotidiano del Sud. Vediamola all'apertura questa mattina. Giallo dell'ex carabiniere, un arresto dopo vent'anni. Gennaro Ventura, ucciso vent'anni fa. E poi, in primo piano, sul Quotidiano, c'è la marcia, grande marcia dei minacciati. Eccolo, il titolo a tutta pagina. Oggi a Polistena sfilano in corteo tutti gli amministratori italiani. Sottotiro i dati di avviso pubblico. Fino a maggio 180 intimidazioni contro i sindaci. i sindaci e amministratori italiani. Minacciati sfileranno dunque a Polistena per la grande marcia per la legalità. Una marcia che si svolgerà proprio stamattina a partire dalle 11. Ma vediamo il servizio. Si coloreranno di striscioni domani le strade di Polistena per la prima edizione della marcia nazionale degli amministratori sottotiro. Una storia che inizia nel 2011 quando l'Associazione Abviso Pubblico redige il primo report sulle minacce agli amministratori pubblici da parte della criminalità organizzata. Un rapporto che vede la sua quinta edizione e che sarà presentato domani in contemporanea gioiosa ionica. Per le strade di Polistena sindaci, assessori e dirigenti seguiranno un percorso che da piazza Giuseppe Valarioti condurrà fino a piazzetta 21 Marzo dove dal palco interverrà il sindaco della città Michele Tripodi, anche egli più volte oggetto di minacce e intimidazioni. Il primo cittadino cederà poi la parola a Nicola Irto, presidente del Consiglio regionale della Calabria, Doris Lomoro, presidente della commissione d'inchiesta sul fenomeno delle intimidazioni agli amministratori locali, Rosi Bindi, presidente della commissione parlamentare antimafia, Filippo Bubbico, viceministro dell'interno e a Roberto Montà, presidente di avviso pubblico. Francesco Creazzo per la Cineus 24. E ancora la cronaca, Mantella si pente e parla, tremono i clan vibonesi, Andrea Mantella il nuovo pentito, il Bosch e collabora, così titola questa mattina il quotidiano del sud e ancora altri argomenti, cioè la politica, Renzi, la sinistra PD non darà più la fiducia, a Clima Teso nel partito, Speranza non la voteremo se non saremo convinti, Matteo Renzi cerca di scuotere il PD dopo la sconfitta elettorale, ma la sinistra interna lo incalza, Roberto Speranza non voteremo più la fiducia se non saremo convinti. E poi una notizia che arriva da Vibo Valencia, l'appello agli imprenditori, basta usura e pizzo. E poi c'è il tema che riguarda i migranti, l'Europa prende lezioni dalla Calabria, il modello Riace sull'accoglienza illustrato dal sindaco Lucano all'Europarlamento. Nell'incontro si è parlato anche degli esperimenti di Carlopoli e di Acqua Formosa, non solo Riace, ma anche dunque Acqua Formosa e Carlopoli. L'Europa chiede la consulenza calabrese su come fare accoglienza per i migranti. E poi anche sul quotidiano del Sud, la notizia che riguarda la Brexit, i britanni scelgono ancora l'Unione Europea, ieri euforia in borsa. Dunque questo è l'altro argomento riportato in primo piano. Andiamo avanti, ritorniamo sulla prima pagina della Gazzetta del Sud. Eccola l'altra notizia, siamo l'edizione di Cosenza, dunque eccolo il titolo, Oliverio Bolt e la metro. L'ironia del consigliere Taglini sull'insolita celerità del governatore, dunque il progetto della metro leggera che sta creando scontri tra il sindaco di Cosenza e la regione, il presidente Mario Oliverio. E ancora dal Cosentino, in particolare da Scalea, Pilinius 2, la DDA, due secoli per i 21 imputati. Questa dunque l'altra notizia che arriva dal Cosentino e poi alcune brevi riportate nella prima pagina. Da Cosenza, Ambrogio, il PD non ha ancora radici in Calabria. Ecco, da Mantea in ferie è l'unico radiologo poliambulatorio chiuso. E poi da Cassano il battesimo del primo cittadino papasso. Questi dunque gli altri argomenti. Cambiamo edizione, sempre dalla Gazzetta del Sud ma da Reggio Calabria. L'apertura riguarda il Comune. Nuovo piano per i debiti. Entro fine mese dovrà essere inviato alla Corte dei Conti. La sede del Comune, la cui amministrazione è impegnata sulla rimodulazione del piano di riequilibrio. E poi da Reggio Calabria a caso fallare il processo slitta al 15 settembre. Nella foto Giuseppe Scopelliti, ex governatore della Calabria. E sempre dalla prima pagina vediamo qualche breve dal Regino, da Brancaleone, posti sigilli al depuratore inutilizzato. 15 gli indagati. Da operazione Mala Sanitas, revocata all'interdittiva la ginecologa Francesca Stiriti. E da Platì si è riunito il Consiglio Combattiamo la Drangheta. Poi lo dicevamo, torniamo a parlare, approfondiamo il tema che riguarda la politica perché il Presidente del Consiglio regionale, Nicola Irto, chiede che si faccia un'analisi profonda delle ragioni che hanno portato alla sconfitta delle amministrative. Ma sentiamolo in questa intervista. E' sempre più teso il clima dentro il PD calabrese. Dopo la sconfitta elettorale rimediata a Cosenza e Crotone, alla quale vanno aggiunti deludenti risultati ottenuti a Roma e Torino e più complessivamente in tutta Italia, ci si aspetta una mezza rivoluzione interna. L'attenzione è rivolta dunque alla direzione nazionale che Renzi ha convocato per domani, dalla quale si attendono precisi segnali anche per i territori. Il segretario Magorno, che ha convocato i vertici regionali per il prossimo 28 giugno, porterà in dote 11.000 firme raccolte per il referendum costituzionale di ottobre. Incerto se ciò possa bastare a placare le ire del Premier e i fermenti che esistono in tutte le province calabresi. Quello che è chiaro è che serve un momento di profonda riflessione e di confronto interno ai Democrat, così come ha spiegato il Presidente del Consiglio regionale, Nicola Irto, analizzando la delicata fase che attraversa il Partito. Adesso serve una riflessione profonda nel Partito, nei territori. Sarà importante capire quale sarà l'indicazione del segretario nazionale alla prossima direzione nazionale del Partito Democratico. È lì che probabilmente si decideranno quali saranno le misure che si adotteranno nell'organizzazione nuova del Partito anche in vista dell'importante battaglia del referendum costituzionale di ottobre. È lì che giochiamo una partita squisitamente politica. Il Consiglio regionale ha già lanciato l'idea di una grande direzione, di un'importante direzione regionale nella quale confrontarci. Dobbiamo aprire una discussione di quel tipo nella consapevolezza che abbiamo già un'importante responsabilità che è quella del governo della Regione Calabria. Credo che sostituendo solamente gli uomini si possa creare un meccanismo, ripeto, di cambiamento e di soluzione ai problemi. Serve un'analisi profonda andando a capire le radici profonde per i quali noi abbiamo perso centri importanti. Riccardo Tripepi per la CNews24. Ancora la politica dalle pagine interne dei quotidiani. Eccolo il titolo sulla Gazzetta del Sud da Cosenza. Matteo, il PD in Calabria, non è ancora nato. Il consigliere comunale Marco Ambrogio chiama in causa il Premier per la crisi del Partito regionale portata a galla dalle sconfitte elettorali. Magorno resta in sella e lavora al referendum di ottobre consegnando 11.000 firme al Nazareno. Sono dunque molti i sindaci che hanno sposato la linea dei ribelli i quali contestano la leadership Calabra. Dunque approfondiamo questo articolo. Il fronte interno del Partito Democratico è targato Cosenza. Sono in riva al Crati i capi popolo contestatori della linea politica tenuta negli ultimi anni che ha portato alle recenti scopole elettorali. A cominciare da Crotone, proprio da Palazzo dei Bruzzi con Mario Chiuto che ha trionfato solo contro tutti. Così dunque riporta stamattina l'articolo sulla Gazzetta del Sud. Andiamo avanti sempre dalle pagine interne. Ci trasferiamo a Crotone. Eccolo all'apertura. Concorsi. Il pugliese non ha più alibi. Il commissario ad acta mette in mora a Giuseppe Panella. Deve espletare le selezioni per primario autorizzate con decreto. Va nominato subito il direttore sanitario. Ci conte non saremo una regione canaglia. Troppi i primari facenti funzioni nominati da Tizio e Caio. Non si sa con quali criteri. E ancora altri articoli. In carichi gratuiti mortificherebbero i liberi professionisti. Il presidente di Inserind attina sull'idea di un bando per la redazione a costo zero del PSC. L'esponente sindacale chiede dove siano finiti i fondi stanziati da Olivo. E poi da Catanzaro a Reggio Calabria. In primo piano c'è il decreto Reggio. È una rimodulazione che convince. Il vice sindaco Severio Anghelone plaude la riqualificazione del rione Ferrovieri. Il consigliere del PD, Nancy Iachino, felice per l'attenzione sul Pellero. Arriva a supporto della maggioranza del Comune. Anche lance opere di utilità sociale. Adesso cambiamo giornale. Ci trasferiamo sulle pagine interne del Quotidiano del Sud. Ripartiamo dalla città capoluogo di Regione. Ecco in primo piano il caso del Parco Verde. Chi ferma il Parco Verde a Giovino? L'avvocato Pitero di Fidel Comune prospetta danni per 10 milioni di euro. Il tar annulla il lie di niego del permesso a costruire. La pratica va rivista. E ancora da Catanzaro a Cosenza. Eccola la politica in primo piano. Chiuto un sindaco a termine. Caruso ormai è un politico di professione. Mira al governo regionale. Nell'analisi del PSI frecciate al PD è un'accusa. Un errore la sfiducia. L'alleanza con Verdini. Un innesto innaturale. E poi una notizia che riguarda la salute. In agenda un convegno promosso da microbiologi clinici. Prevenire le infezioni in gravidanza. Questo dunque è il tema del convegno medico che si terrà nelle prossime ore oggi a Cosenza. E poi da Cosenza ci trasferiamo nelle pagine interne di Reggio Calabria. Eccola l'apertura. Vito Ortì al vaglio di Del Rio. Il progetto per il percorso alternativo per Gambari. L'ufficio del Premier Renzi trasmette la pratica al Ministro. Accolto l'appello del Comitato. Dunque è la strada via Orti per Gambari. E diventa un caso nazionale con il Premier Renzi che fa scivolare sul tavolo del Ministro per le Infrastrutture. Graziano Del Rio. Per i necessari approfondimenti. Un segnale importante nella battaglia che ormai da molti anni si sta portando avanti il Comitato. guidato da Francesco Polimeni che per convincere il capo del governo della bontà e dell'utilità dell'opera da realizzare ha allegato i servizi pubblicati sulle colonne del quotidiano del Sud. Che approfondiva proprio questo argomento. E adesso da Reggio a Vibo Valencia. C'è la politica. In primo piano eccola la notizia PD. Oggi la data del congresso. L'assise tra 20-25 giorni al massimo. A Roma Guerini incontrerà i dirigenti vibonesi del partito. Dopo il rinvio il nazionale fissa il giorno. Sarà dunque, leggiamo l'articolo, il vice segretario nazionale del Partito Democratico Lorenzo Guerini a comunicare ufficialmente la nuova data del secondo congresso provinciale DEM. Ieri la firma della deroga che si sarebbe dovuto svolgere proprio oggi prima che da Roma arrivasse la notizia dell'improvviso rinvio. E ancora per quanto riguarda i nodi del PD il tesseramento va annullato. Un dirigente del partito scrive ai segretari Renzi e Magorno. Queste dunque le notizie pubblicate nelle pagine interne. Ma ritorniamo alla cronaca con la notizia riportata in primo piano sui quotidiani che riguarda in particolare la decisione del boss vibonese Andrea Mantella di collaborare con la giustizia. Ma vediamo il servizio. Andrea Mantella si è pentito. Il boss emergente di Vibo Valencia figura di primo piano del cartello scissionista antagonista al clan Mancuso di Limbadi ha deciso di collaborare con la giustizia. Secondo diverse ricostruzioni giudiziarie sarebbe stato lo stesso Mantella l'autore di un brutale pestaggio ad un esponente del clan Mancuso sancendo così la cacciata del potentissimo casato mafioso di Limbadi dalla città di Vibo. Plurimputato per mafia e distorsione è stato anche processato e assolto per vicende omicidiarie. Il suo pentimento segue di poco più di un anno quello di Raffaele Moscato killer dei Piscopi Sani che tra gli altri ha accusato lo stesso Mantella di gravissimi reati. Il boss scarcerato il 14 giugno scorso per espiazione della pena combinatagli nell'ambito del procedimento Goodfellas fino ad un mese prima di ottenere la libertà era ristretto nel carcere di massima sicurezza di Spoleto per poi essere trasferito nel penitenziario romano di Re Bibbia dove esiste una sezione speciale riservata ai collaboratori di giustizia. Mantella è tra l'altro cognato di un altro boss che ha deciso di collaborare con la giustizia Pasquale Giampà detto mille lire esponente di punta dell'omonima cosca di Lamezia Terme nonché cognato di Francesco Scrugli ucciso il 21 marzo del 2012 a Vibo Marina nell'ambito della sanguinosa faida tra i Patania di Stefanaconi legati a Imancuso e il clan dei Piscopi Sani. Da Vibo Valencia per l'AC News 24. Ritorniamo sulle prime pagine dei quotidiani ripartiamo dal quotidiano del Sud edizione di Cosenza che apre con la grande marcia dei minacciati oggi a Polistena sfilano in corteo tutti gli amministratori italiani sottotiro i dati di avviso pubblico fino a maggio 180 intimidazioni contro i sindaci e da Cosenza c'è la cronaca abiti firmati ma falsi chieste 16 condanne eccoli in questa foto alcuni dei capi contraffatti sequestrati proprio di recente e ancora in primo piano il giallo dell'ex carabiniere un arresto dopo 20 anni Gennaro Ventura ucciso appunto 20 anni fa Dalla prima pagina della Gazzetta del Sud ecco la notizia in primo piano che arriva da Reggio Comune nuovo piano per i debiti entro fine mese dovrà essere inviato alla Corte dei Conti dall'edizione di Reggio Calabria a quella di Cosenza in primo piano c'è la politica Oliverio Boltel metro l'ironia del consigliere Tallini sull'insolita celerità del governatore sul progetto della metro leggera e poi da Cosenza all'edizione di Catanzaro Crotone la mezzia Vibo la apertura è dedicata al caso di Lupara Bianca con l'arresto di Cannizzaro il presunto boss ordinò l'uccisione del fotografo Gennaro Ventura i resti di Gennaro Ventura recuperati in un casolare abbandonato e poi la cronaca da Vibo Valencia Andrangheta si pente Andrea Mantella e poi c'è lo sport vediamo la notizia che arriva direttamente dal Crotone Davide Nicola è il nuovo allenatore ma conosciamolo meglio in questo servizio Tanto tuonò che piove il Crotone ha finalmente il suo allenatore da Serie A Davide Nicola ha sciolto anche le ultime riserve ed al contrario dei colleghi De Zerbi e Grosso ha accettato l'offerta del club pitagorico sarà lui l'erede di Ivan Juric sulla panchina rosso-blu nel primo storico anno in massima serie ad annunciarlo direttamente il presidente del club di Pitagora Raffaele Vrenna è stata una scelta ponderata ha sottolineato il patron anche perché fa lo stesso tipo di gioco di Ivan Juric è la scelta migliore ha chiusato Vrenna per puntare alla salvezza Nicola ha firmato un contratto fino a giugno 2017 con rinnovo automatico per altre due stagioni in caso di mantenimento di categoria come si legge sul sito ufficiale del Crotone Nicola prendere in mano le redine della squadra dal primo di luglio ma nelle prossime ore probabilmente già sabato o al massimo lunedì il nuovo allenatore pitagorico verrà presentato ufficialmente in una conferenza stampa alle sue buon passo per la Cineus 24 ecco restiamo sullo sport dalla gazzetta dello sport eccola l'apertura dedicata a questo giocatore Xavi un po' atletico un po' barca cara Italia ci fai paura il regista della Spagna che ha vinto tutto gioca per noi il super ottavo il nostro il calcio migliore ma soffriamo la difesa a tre così dichiara in questa intervista esclusiva pubblicata nelle pagine interne della gazzetta dello sport io mi fermo qui vi ringrazio come sempre per aver preferito la nostra informazione vi ricordo gli appuntamenti sulla C oggi alle 14 l'edizione giorno del TG a seguire alle 14.30 una nuova puntata dei fatti in diretta condotta da Pietro Comito e poi alle 19.30 l'edizione serale del telegiornale mentre noi per la rassegna stampa del mattino ci vediamo domani a partire dalle 7 buona giornata visita il sito www.lacnews24.it oppure scarica l'app sul tuo smartphone o tablet per essere aggiornato 24 ore su 24 7 giorni su 7 sulla Calabria che fa notizia dal 30 maggio le edizioni della C News 24 cambiano orario alle 14 alle 19.30 e alle 24 i calabresi sono informati a